devo pensare qualcos'altro è il lavoro della sua vita quindi questo non diciamo questo ma ecco perdoni mi racconta san marino le differenze come ha lavorato come ha vissuto a san marino dove viveva a san marino è più caro o meno caro rispetto a ha comprato casa nel frattempo quanto ha speso io posso chiedere o quanto costa una casa media si vede qui di 70.000 metri quadri può andare a secondo la zona dove abita non l'indirizzo la frazione a si scusi ha ragione abitanti di nuova feltra e come si vive a san marino come si lavora la tassazione ad esempio come la tassazione a san marino io lavoravo a san marino negli anni dagli anni 93 94 fino come era la tassazione piena come in italia si è uguale hanno dei vantaggi a san marino tipo la benzina costa un po di meno le sigarette un po di meno la tasse di soggiorno lei fuma e ma di quanto di tanto la differenza se uno fuma tanto e la benzina il carburante i carburanti hanno san marino negli ultimi dieci anni si sono diventate questa smart card che magari se fai benzina te la ricaricano una volta che ha accumulato dei punti si vive meglio e mi dà un voto alla vita a nove feltri a un voto la vita a san marino e un voto al lavoro dove lavorava san marino quante stelle uguale voto al lavoro qua e alla via alla vita qua e voto al lavoro la e alla vita la 24 voti la vita dove abito è una vita tra il fila perché un paesino tra il voto 7 a nova feltria 7 7 7 e mezzo e lavoro a marina centro un po più incasinato perché quindi sei facciamo cinque facciamoci cinque e mezzo a san marino voto alla vita la vita san marino è un pochino più cara che qui su alcuni punti di vista con 7 anche 7 invece come lavoro come lavoro san marino ma lavoravamo gli anni d'oro e c'era molto lavoro è abbastanza quindi anche 7 via e le mance le davano a san marino e le danno io non gliela do no perché già è gratis questo perché uno dice la paga youtube no no mi hanno chiuso due canali ma volevo dire la mancia no ma scherzo i clienti si sono dimenticati di darmi e mi scusate ma spezzano anche l'euro due euro di resto per loro negli anni d'ora san marino ti portava a casa da bella affetto quali stranieri se io girassi armato non lo faccio e se io girassi per marina cento quali sono gli stranieri che trovo più facilmente di che nazione adesso adesso oggi adesso oggi come d'oggi puoi trovare si albanesi i rumeni i cani italiani calabresi di notte se io volevo uscire ma come si chiama l'uomo della notte teo ah sì matteo ha chiuso tutto non volevo svegliarlo se io fossi uscito stanotte se io fossi uscito o stanotte restassi o facessi un giro prima andare a casa se io giro per marina centro a parte adesso c'è il coprifuoco senza coprifuoco è pericoloso se io vado in giro col borsello per quello aperto tengo un telefono magari in mano e un altro dentro non lo chiudo e c'è il portafogli e rischio borseggi ci sono molti extracomunitari quindi se fermo per fare un racconto il rischio è che mi rubino il telefono se sono una persona carina e quindi una sicurezza più san marino più qua sono 50 chilometri quadrati me lo dice il cognome francesco preferisce di no non lo metto venti e l'acopo l'aco particolare e francesco ma torno alla cultura calabrese no come posso dire uso il termine che usa i carabiniere di reggio quello che fai comunicati il malaffaro oppure il malpensiero come dire un calabrese medio è più portato a fare qualcosa non so è proprio siamo in romagna anni fa stavo in vacanza con mia moglie ci fu una violenza sessuale gravissima credo a rimi non ricordo bene comunque una polacca e aveva un accompagnatore è stata una violenza è di extracomunitari il direttore di libero vittorio feltri cosa ha fatto ha scelto ha scritto ha fatto una pagina intero due non ricordo con i verbali degli interrogatori con le parole più crude da una parte era il discorso guardate i miei extra extra comunitari cosa arrivano a fare due l'altra cosa era la furberia che fa lui cioè la famosa pruderi usare certi termini eccetera il come dire il cattivo pensiero il qualcosa che non va bene diciamo è più da meridione dipende da persona persona oppure quanto incide francesco la compagnia cioè che so se lei festeggia qualcosa con gli amici no siete in dieci adesso qualcosa è più difficile e più facile in quel contesto anche a 50 anni che scappi che so siamo un po allegri la pseudo violenza sa che se io da un bacio alla signora nella guancia se lei non vuole già violenza dico io non parlo di lei francesco intendo il meridionale medio soprattutto in gruppo c'è una c'è un come dire un attinenza di più un attitudine di più a lasciarsi andare o anche da solo oppure era così una volta oppure succede più da giovani in questi 30 anni che lavora qua non ha visto qualcosa insomma dove è mai intervenuto per situazioni del genere piccoli reale invece invece francesco c'è l'orgoglio di resta l'orgoglio di essere uomo del sud no le tradizioni e cattolica la sua famiglia io sono cattolico loro sono ortodossi ai russi la russa cosa pensano i genitori del fatto che lei ha una donna dell'estero o cosa pensano normale e non vi sposate quanto da quanto state insieme a setta ma sbaglio io quella famiglia che le dicevo di albanesi ma non ha raccontato le vicende l'onore il rispetto è vero che non si accettano battute se facciamo spero che non si offenda ovviamente immagini che lei mi sorprenda a letto con la sua come si chiama solo il nome ecco qual è la sua reazione non lei la reazione di un calabrese medio se vuole gliela giro se succedesse lei con me io ho paura nel senso che se facciamo a botte vince lei se capisce uno e qual è la reazione classica di direzione e fai fatica perché dipende dalle per da bisogna e pesce che non piacerebbe neanche a un francese no no certo però come la reazione classica è a botte esce il coltello ti denuncio denuncio me la prendo di più con le persone persone cambia perché anche perché bisogna capire come è avvenuto da chi è partito adesso che mi viene in volo dopo questa domanda che me l'hai mandato ha stato il caso l'uno è tornato a casa del lavoro prima che è stato male ha sorpreso perché un suo conoscente ha letto con la moglie che ha fatto a lui ha detto si vesta e vada via è andato bene a lei la legata l'ha buttata nel bidone del differenziato accidenti ma quanto quanto tempo fa scusa ma è andato sui giornali incredibile ma poi non si è fatta niente meno ma incredibile incredibile questa è una reazione sì no certo però non legge con tutto quello che si sente oggi è felice di avere quattro fratelli o egoisticamente preferiva essere figlio unico come me io non ho nessuno sceglie però io sono sempre stato amante delle famiglie poi noi assolutamente siamo i cinque fratelli siamo le famiglie miglioranza perché negli anni sessanta c'è famiglia di otto dieci chi comanda in famiglia il papà e francesco chiudo con questo immagini che il papà e o la mamma avessero disavventure economiche vabbè siete in cinque quindi vi auto tassate magari per aiutare se ecco in quei casi no metta che il papà e la mamma abbiano bisogno domani di 50 mila euro che fate 10 mila euro a testa se uno però in difficoltà economica fanno gli altri 12 13 mila euro a testa come funziona come funzionerebbe come funzionerebbe nel caso che i miei genitori hanno bisogno è normale che si chiude ci cerca di trovare una soluzione viceversa se lei domani avesse bisogno di 50 mila euro ci pensano un po i genitori un po i fratelli a parti uocia vi mettete d'accordo poi lei quando riesce nessuno ha mai avuto da ridire fra gli amici e i conoscenti del fatto che ha una fidanzata dell'est una compagnia meglio dell'est 8 o meglio italiano io ce l'ho dell'est della mia dell'est poi ci sono i miei amici che hanno anche loro la c'è un mio amico dicevo di roma che calabrese che ha una moglie bellissima albanese con i miei bimbi cioè dei calabresi che hanno sposato una calabrese sono felici e contenti no lasci di aspetti che di roma che c'è un altro video